Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di FanoTV oggi giovedì 15 giugno e questa è la rassegna stampa di FanoTV in diretta alle 7.30. Un cordiale saluto anche a coloro che ci seguono in replica. Allora andiamo subito a vedere il santo di oggi, la Chiesa Cattolica oggi ricorda la Beata Maria del Divino Cuore di Gesù. Il sole è sorto le 5.24 e tramonterà le 20.53. Il tempo per oggi, allora oggi avremo nelle prime ore della mattinata possibilità di rovescio temporale in locale lungo la fascia costiera mentre nelle ore pomeridiane i rovesci temporali si sposteranno nelle zone interne della regione. Le temperature sono in diminuzione per domani. Venerdì 16, il tempo migliore sulla costa, ancora perturbato invece nelle zone montane, in particolare quelle meridionali della regione dove è possibile ancora pioggia. Sabato, più o meno la situazione è simile, con ancora precipitazioni, pioggia nelle ore centrali, locali rovescio temporali, nelle zone montane delle Marche. I venti sono di brezza tesa, sabato il mare sarà poco mosso, però con moto onduoso in aumento fino a mosso nella nottata. Poi tempo stabile soleggiato per domenica e l'inizio della settimana prossima. Cominciamo allora a vedere adesso i giornali. Il resto del Carlino in prima pagina mette la questione del palazzetto dello sport, del palace dell'Adriatica Arena. Perché? Perché adesso, dopo la VL, anche l'astronave è destinata a cambiare nome, cambia lo sponsor. Si sta trattando con una società dell'Unipol Sai, la My Glass, che è in pole position per l'intitolazione appunto di tutto l'Adriatica Arena. Poi si parla ancora di noi, si parla di Fano TV, si parla del rogo a Fano TV del marzo scorso, perché è stata depositata la perizia sui telefonini delle persone indagate, la difesa dice non c'è nessuna prova, quegli sms esplosivi sull'incendio. Adesso lo vedremo tra un istante. Intanto Belloni replica sul corso a Pesaro, i lavori a giugno responsabili sono proprio gli esercenti e poi Piero Guidi a Urbino, l'azienda di vendita ottiene il concordato. Ma dicevamo di questa deposizione della perizia sugli sms. Sapete che sono stati presi i telefonini degli indagati, l'esperto perito della procura ha verificato tutti questi telefonini, ha controllato tutto quello che c'era dentro e ha depositato questa perizia. Il titolo del resto del Carlino, l'articolo è di Elisabetta Rossi. Quel cavallo era mezzo zoppo, per chi indaga può essere in riferimento al flop dell'incendio a Fano TV. Oltre 200 pagine di parole scritte e dette al telefono, trascritte appunto da questo consulente della procura. Comincia così l'articolo Elisabetta Rossi. Vedrai che botto, tra non molto scoppierà una super bomba, allaccia le cinture. È il 28 novembre del 2016, quando alle 11.30 della mattina dal cellulare di Antonella Zaccarelli parte l'sms esplosivo diretto al cellulare dell'uomo con cui aveva avuto una relazione un anno prima. Una relazione che lui, un collaboratore di Fano TV, aveva deciso di interrompere a fine 2015, provocando il risentimento della donna, che invece avrebbe voluto continuare quel rapporto amoroso. Per l'esperto della procura, i discorsi sui cavalli tra la Zaccarelli e Di Lucera. Di Lucera è il presunto esecutore, colui che avrebbe dato fuoco materialmente alla sede di Fano TV. Cioè, quest'uomo sarebbe l'autore materiale, chiaramente non è detto che sia lui, c'è questo processo, per cui sono tutti innocenti fino a prova contraria. Quindi, però, questo è quello che racconta il giornale questa mattina. Dicevo, per l'esperto della procura, i discorsi sui cavalli tra la Zaccarelli e Di Lucera sarebbero in realtà dei messaggi in codice. L'animale che doveva essere consegnato per febbraio 2017 sarebbe arrivato circa un mese dopo, ma, scrivo, mezzo zoppo e con mezza coda. E questo è quello che si legge. Poi c'è tutto l'articolo che è molto dettagliato, molto preciso su quello che, insomma, è questa perizia, su questa perizia che è stata depositata in procura da parte dell'esperto. A pagina 3 del resto del carino di oggi. Sulla pagina di Fano, invece, l'eredità Borgogeli. La procura chiede di archiviare le accuse. Era finito nel mirino l'avvocato Pierucci. Il nipote della defunta si è opposto davanti al GIP e chiede di procedere. Sulle infortuni, invece, gli infortuni alla Profinglass, all'audizione in Senato, saranno acquisiti i documenti dell'azienda. In questa fotografia si vede la commissione, presieduta dalla senatrice del PD Camilla Fabri, pesarese, e il prefetto, tra gli altri, il prefetto di Peserubino Pizzi. Intanto oggi c'è l'addio all'operaio Cangiotti. Buca, cerchione KO. Il problema delle buche sulle strade, e io pago, una disavventura capitata a Massimiliano Piccioli, nella superstrada vicino ad Acqualagna. Quel tratto lì è veramente disastroso. Un cratere profondo, 10 cm, in un'arteria provinciale. e dice, io pago. L'assicurazione dell'ente, cioè della provincia, mi ha detto che dovevo andare piano, e quindi, in sostanza, è come dire, insomma, affari tuoi, colpa tua. Per quanto riguarda, invece, l'agrario, la scuola agraria a Fano, in particolare nel quartiere San Lazzaro, le aule sono ok. C'è stato questo sopralluogo della provincia, del comune e del preside. Gli spazi sono stati ritenuti idonei. Dunque, la sede di staccata del Cecchi potrebbe diventare veramente un fatto reale, quindi in viaggio verso Fano, perché i locali di questo istituto a San Lazzaro, l'ex succursale del Battisti, sono stati valutati idonei ad ospitare il biegno dell'istituto agrario di Pesero, cioè due prime, una per l'indirizzo tecnico e una per il professionale. Quindi, per chi vuole, o chi volesse iscriversi il prossimo anno al Cecchi, insomma, tenga un attimo le antenne dritte, perché potrebbe essere che ci sia anche la possibilità di farlo a Fano, almeno le prime due classi. La mia ex, invece, mi ha tirato acido in faccia, sempre dal cardino, chiamata allarmante al 112, per fortuna era solo acqua e sapone, però, insomma, è arrivata questa telefonata intorno alle sette dell'altra sera, da parte di questa donna, che ha detto, mi hanno lanciato dell'acido in faccia, e, insomma, capite voi, un attimo, un brivido è corso tra i carabinieri di Pattuglia, che sono andati subito a soccorrere questa donna, però la donna, insomma, alla fine, non aveva l'acido in faccia, aveva semplicemente bruciore agli occhi, perché insieme all'acqua c'era del sapone, e quindi, ecco il motivo del bruciore. Ad aver gettato nel panico, e quindi ad aver gettato l'acqua in faccia a questa donna, una trentasettenne ex convivente. L'altra pagina, invece, anzi no, cambiamo giornale, andiamo adesso sul Corriere Adriatico, in primo piano, un ristoratore di Pesaro, che si è ribellato al furto che aveva subito, e questo ristoratore ha iniziato a dare la caccia al ladro, lo ha trovato, e dice lui, insomma, era appena rientrato a casa, quando è suonato l'allarme del suo ristorante, il suo ristorante si trova in strada a Montefeltro, Davide Leandri è piombato sul posto, ha riconosciuto il ladro dalle immagini della videosorveglianza, lo ha cercato per strada, e quindi alla fine c'è riuscito, e quindi dopo il tabaccaio, ricorderete, no, ieri il tabaccaio che ha preso a sediate il rapinatore, un altro commerciante che dunque si ribella, e quindi la vita comincia a diventare un po' più dura, anche se più complicata, sotto certi punti di vista, per tutti. Il Fano aspetta Gabellini, ci sono altri pretendenti, nelle pagine sportive all'interno del Corriere Adriatico. Andiamo sulla pagina di Fano, il Senato ora bussa la profiliglass, due morti sul lavoro, la commissione di inchiesta ha ascoltato il prefetto e il dirigente dell'Asur, la Presidente Fabri invierà la Polizia Giudiziaria per acquisire i documenti sulla sicurezza, la seduta con Pizzi e Crespi è stata secretata per non interferire con l'indagine per omicidio colposo della Procura. Oggi intanto l'azienda si ferma per l'ultimo saluto a Dodo, così era soprannominato Rodolfo Cangiotti di 49 anni, che lascia la moglie e un figlio adolescente, alle 3 del pomeriggio di oggi, nella chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, l'esequio dell'operaio molto conosciuto per le imitazioni di Renato Zero. La Giunta si riprende la struttura del Grisli, ma l'opposizione di centrodestra insiste, tante attività senza autorizzazione. La crisi economica dura da 8 anni, ma i comuni tartassano i cittadini, la quota più alta di addizionale IRPE, Fettare si paga a Fano, Fossombrone si distingue per la progressione. Da Urbino, Elisabetta Foschi, Presidente del Consiglio Comunale, salva, bocciata la revoca e l'opposizione abbandona l'aula, la maggioranza blinda dunque la Presidente, al termine di un dibattito infuocato. Avevano chiesto, quelle della minoranza, le dimissioni. Piero Guidi chiede il concordato, la nota azienda di moda ha presentato in tribunale domanda per il provvedimento, due mesi per ristrutturare il debito, colpa della crisi e dell'industria dei marchi falsi. Riconosce il ladro, e quindi torniamo nella pagina del Corriere Adriatico interna, ecco il protagonista, il titolare Davide Leandri, in questa immagine, in questa fotografia, dicevo, riconosce il ladro, lo insegue, i negozianti adesso si ribellano, è successo l'altra notte al quanto basta di strada Montefeltro, il titolare fa arrestare il malvivente. Paura, dice lui, certo che ho avuto paura, il malvivente aveva nascosto soldi e buoni pasto nel braccio ingessato, subito processato, però indovinate adesso dov'è? Un porto libero, un porto d'armi al giorno, boom di licenze però a Pesaro, ecco il pericolo della difesa fai da te, confermato dalla vendita di pistole e fucili. E dunque, parafrasando una vecchia canzone, l'attacco di questo articolo è, c'eravamo tanto armati e ci armiamo ancora, sempre di più, sono 293 le licenze di porto d'armi rilasciate dalla questura di Pesaro Rubino da inizio d'anno a oggi, in media più di una al giorno, in questi primi mesi del 2017, dicono loro, abbiamo registrato un incremento importante, e lo dice il segretario provinciale del SILP, della CGL. No alla musica, sempre da Pesaro, fino alle 2 di notte, le regole adesso si rispettano, parla l'assessore Luca Bartolucci, che respinge le richieste dei locali, compromesso tra le esigenze di divertimento, ma anche quelle di chi vuole riposare, chi non vuole dunque il baccano, fino a notte fonda. Il mercato sul lungomare, invece, a Marotta piace, sia ai residenti che ai turisti, resterà dunque per tutta l'estate, invece il martedì, in Viale Carducci, i banchi saranno quelli degli antiquari. Da Senigallia, sosta selvaggia, le multe non bastano, in arrivo nuovi divieti sul lungomare, auto parcheggiate ovunque, in via Verga residenti in trappola, sopra luogo della municipale, il sindaco Mangialardi dice, è impossibile pensare a costruire altre vie di comunicazione. Tipicità, sapore esotice, grandi birre, estate spumeggiante e internazionale, e questo è l'altro articolo che troverete sul Codio Adriatico, ma in realtà avevo salvato questa pagina non tanto per la birra, ma per questa gerandola dei parroci che sorprende i fedeli. Nuove sedi per nove sacerdoti, trasferito anche Don Giancarlo Cicetti. E sappiamo benissimo che quando c'è il valser dei parroci nelle diocesi, succede sempre il finimondo, i fedeli che si arrabbiano, e quelli che vanno dal vescovo e su e giù, insomma, bisogna anche obbedire, come dico sempre, quindi alla fine è giusto anche che sia così. Poi, che dispiaccia, è un altro discorso. Noi ci fermiamo qua, la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30, naturalmente noi questa sera invece ci rivediamo alle 20.30 per il telegiornale. Occhio alla notizia, se vedete qualche incidente, qualche segnalazione da fare, continuate a mandarci foto, video e quant'altro. Ricordo che c'è sempre per le segnalazioni quelle più importanti e per chi arriva prima, soprattutto nella segnalazione, c'è sempre la ricarica di 5 euro che anche ieri abbiamo effettuato a qualche nostro telespettatore. Insomma, un modo per dirvi grazie. Ed è tutto, ci vediamo stasera. Grazie.